Si lavora senza sosta a casa Milan, Giorgio Furlani e Gofri Moncada dopo aver definito l'arrivo di Reinders, come vi ho detto questa mattina, hanno messo nel mirino come priorità l'attaccante e proprio il giocatore di cui abbiamo parlato stamattina, Taremi Medi Taremi, attaccante iraniano del Porto. Per chi si fosse perso il video consigliamo di vederlo perché, come ho scritto nel titolo del video, il calcio opinabile, i dati e le statistiche no. E i numeri di Taremi sono numeri davvero impressionanti. E proprio nella giornata di oggi, e vi voglio aggiornare, c'è stata la prima offerta ufficiale firmata da Giorgio Furlani, mi sono delegato al Milan, verso il Porto per Taremi. Il Milan, da quanto mi risulta, ha offerto 15 milioni di euro per il calciatore e la risposta, risposta alla squadra portoghese, è arrivata subito perché in questo momento non intende svendere il calciatore, nonostante non sia giovanissimo e chiede 25 milioni di euro, quindi 10 milioni in più rispetto all'offerta rossonera. L'attaccante è seguito da Orge Mendes, che ha parlato con i dirigenti rossoneri, sta provando a capire se c'è margine di trattativa, se c'è la possibilità di abbassare le richieste del Porto, ma sappiamo benissimo che la squadra lusitana, la squadra portoghese, è sempre una bottega molto cara, è sempre una bottega in cui sono molto abili i dirigenti portoghesi a vendere, a stravendere i loro calciatori, nonostante sono giocatori tutti di ottimo livello. Quindi il super agente portoghese, Orge Mendes, sta facendo questa attività di intermediazione tra il Milan e il Porto. Il giocatore, che abbiamo ribadito questa mattina, ha intenzione di giocare in un top club europeo che giochi la Champions, che possa garantirgli titolarità, quindi il Milan in questo momento è il caso, il prototipo di club perfetto, perché sì, c'è Giroud, ma non è più giovanissimo, e quindi avrebbe tanto spazio, avrebbe una maglia importante, il Milan avrebbe la possibilità di giocare la Champions, quindi potrebbe essere un matrimonio vincente per entrambe le parti, sia per il Milan che sia sicuro un bomber pronto, un bomber maturo, un bomber che può far crescere, può far rifiutare, intanto Giroud può far crescere anche Lorenzo Colombo, lontano dai riflettori, e per il giocatore un'offerta importante al Milan, anche a livello di ingaggio, quindi 3,5-4 milioni, gli farebbe chiudere la carriera in un grandissimo club, e gli farebbe vivere gli ultimi anni della sua carriera in contesti importanti, giocando la Champions League e provando a inseguire il sogno della seconda stella. Quindi i presupposti ci sono, come ho detto prima, il Porto è una bottega molto cara, il giocatore ha fatto molto bene, ecco perché questi numeri, queste statistiche descrivono meglio chi è il giocatore, abbiamo parlato nel video di questa mattina, è un giocatore, un bomber molto prolifico, e quindi ha tirato attenzione di grandi club, su tutti l'Inter che è interessato al giocatore, insieme al Milan e tanti club della Premier League, però il giocatore ha questa simpatia per l'Italia, da quanto mi risulta, vorrebbe e sarebbe affascinato dall'idea di giocare nel campionato italiano, e soprattutto questa voglia di misurarsi, di confrontarsi con altre realtà, visto che in tutti i campionati in cui ha giocato, dal Qatar al suo paese, al Portogallo, in Champions League, ha sempre fatto molto bene, ha sempre realizzato tantissime reti. Quindi, ricapitoliamo, è arrivata la prima offerta ufficiale del Milan, che acquisisce comunque vantaggio rispetto ai concorrenti che non hanno ancora formulato offerte, soprattutto sull'Inter, e l'offerta è stata declinata e è stata respinta dal Porto. Come per Reinders, la trattativa ha bisogno di un'intermediazione, ha bisogno di dialoghi, di confronto per capire e per avvicinarsi tra la domanda e l'offerta. Staremo a vedere, noi di Rubrica Rosinale siamo sempre qui, pronti ad aggiornarvi.